E adesso chiamo sul palco la prossima sessione, Fabio Massimo Marchetti e Elio Radice. Ma buongiorno a tutti, ma caspita quanti siete. Per chi non mi conoscesse, sono Fabio Massimo Marchetti e qui con me c'è Elio Radice e insieme coordiniamo la BU Digital Process. Buongiorno. Vorrei fare un piccolo inciso sulla competitività, sulla BU superiore. Noi siamo la BU superiore per l'antonomasia. Primo per la mia dimensione fisica, che batte la dimensione di tutti gli altri BU manager, quindi questo per prima cosa. E secondo perché noi rappresentiamo il lato luminoso della forza. E chi ha visto l'ultimo episodio di Guerre Stellari sa che il lato luminoso vince, anzi converte il lato scuro al lato luminoso. Quindi per definizione siamo la BU superiore. Partiamo qualche slide per introdurre Digital Process, ma per fare questo percorso anche dobbiamo contestualizzare un po' quello che sta succedendo nel mondo. Oggi evidentemente c'è un cambiamento fortissimo che tutti stiamo vivendo e che può essere identificato come un megatrend. Il megatrend sono quelle cose che accadono anche se uno non vuole e che cambiano il proprio modo di essere, il proprio modo di operare. È un cambiamento radicale e questo evidentemente nel nostro settore viene attraverso la digitalizzazione. Quindi una trasformazione che impatta un po' tutti i settori, sia quello dell'economia, della finanza, della pubblica amministrazione, ma per noi, Digital Process, l'impatto è sul mondo industriale. È così che quindi nasce già l'anno scorso anno. L'anno scorso ci chiamavamo in altro modo, ma quest'anno siamo focalizzati, siamo cresciuti e per questo vogliamo trasferirvi un po' questi contenuti. Nasce Digital Process, che è focalizzata per accompagnare le aziende e le imprese industriali nell'Industrial Digital Transformation, quindi nel percorso di cambiamento utilizzando le tecnologie digitali. Tre paradigmi per definizione. Si dice sempre paradigma, bisogna ricordarsi che paradigma significa modello di riferimento, quindi vuol dire che c'è un modello, magari adottato anche in altri contesti che sono più avanti dell'Italia, che dà comunque un riferimento di come il nostro mondo deve evolvere. Paradigmi. I paradigmi principali si chiamano Industria 4.0 e Digital Twins. Abbiamo aggiunto anche IoT, Internet of Things, perché evidentemente è un mondo che in realtà ragiona più sulla gestione del dato piuttosto che sulla gestione del modo di operare, ma sono i tre temi fondamentali su cui Digital Process sta lavorando. Ecco, Elio ci racconti come siamo strutturati? Sì, questa è a complemento di quanto avete visto ieri e se volete rappresenta le aziende che sono il riferimento per il go-to-market. Ci sono dei messaggi importanti, uno è che vedete bene identificato il tema dell'estero, la Germania. PBU Card System è la società che è stata oggetto di acquisizione lo scorso anno solare ed è il nostro, diciamo così, punto di riferimento per lo small-medium business nel mercato manifatturiero tedesco che sapete essere molto, molto ampio. In Italia ci muoviamo con due legal entity che vanno sotto il nome di TechValue che indirizza anch'essa il mercato manifatturiero small-medium business e con varie industries che è rappresentata e gestita da Marchetti. In questa slide poi ho voluto anche inserire Vare Engineering, anche se fa parte di Smart Service, il motivo è perché la gestisco assieme a Sergio Rastelli e quindi il nome, diciamo così, identifica anche in modo chiaro il posizionamento. Il posizionamento è aziende manifatturiere di grandi dimensioni, quindi è una realtà con la quale spesso abbiamo un ingaggio diretto. L'insieme di queste realtà porta circa 230 persone, ci sono le 90 di Vare Engineering che sono un patrimonio di competenze specialistiche molto, molto interessanti. L'intenzione e obiettivo di questo gruppo è continuare a crescere sia in dimensione clienti sia in dimensione risorse. C'è una particolare attenzione su Vare Industries che riteniamo che è quella che in termini di crescita di business ha il potenziale più alto perché indirizza un mercato veramente grande che poi andremo ad analizzare. E tra l'altro nell'ultimo anno ha circa raddoppiato la sua dimensione. Qualcosa di più. Qualcosa di più. Va bene. Vai. Veniamo un attimo ai nostri... eccola. Veniamo un attimo alla nostra value proposition. Qui l'abbiamo raggruppata nelle tre macro-arie del mondo industriale. La prima parte sono i processi interni, quindi sono i processi all'interno dell'azienda. Noi siamo in grado di indirizzare con soluzioni tutti i processi interni all'azienda, quindi partiamo dall'engineering, passiamo per la progettazione, passiamo per la produzione, la qualità, la manutenzione, l'energia e poi tutta la parte di analytics, di AI e quant'altro che supporta sicuramente cyber security e in questo l'integrazione poi col mondo del cloud. Siamo pesantemente una BU che deve cooperare con le altre BU, perché per definizione abbiamo l'integrazione col mondo IRP, abbiamo l'integrazione col mondo IRP, abbiamo l'integrazione col mondo del CRM, tutta la parte di gestione della relazione col cliente, abbiamo la necessità di cyber security e tante delle nostre applicazioni vanno in cloud. Quindi evidentemente non parliamo della tecnologia, quindi evidentemente abbiamo una sinergia estesa con tutto il mondo Vargroup a 360 gradi. L'altra area è quella della digitalizzazione dei prodotti. È fondamentale, perché magari ci scordiamo che può essere un cliente, anche qualcuno che magari ha fatto la digitazione e i processi interni, qualcuno che vuole digitalizzare il suo prodotto che mette sul mercato, quindi farlo diventare intelligente attraverso quello, evidentemente anche creare un percorso di cambiamento di modello di business. L'ultima area è quella del virtuale. Il virtuale è importante perché ci permette di verificare prima di realizzare e quindi permette di fare efficienza nelle aree di progettazione e di realizzazione dei nostri prodotti. Siamo a cinque minuti. Mi metto per cinque minuti il cappello istituzionale di presidente del gruppo software industriale di Anie e vi racconto, lanciamo il filmato che così lo vedete mentre vi racconto qualche cosa su Industria 4.0, perché secondo me è molto importante capire, uno, cosa sta succedendo e è dure anche avere qualche consiglio di approccio verso i clienti, verso le persone che incontriamo con cui parliamo di questi temi. Allora, vediamo prima Industria 4.0. Voi sapete che sono circa, diciamo tre anni, ma in realtà sono due, che abbiamo un forte sostegno di fiscalità nel mondo del 4.0. Questo ha aiutato a fare tanti progetti, a far partire tante aziende in un percorso appunto di digitalizzazione, ma non per questo il mercato oggi è maturo, anzi è in fase iniziale. Voi dovete sapere che nella grande impresa circa il 70% ha fatto qualche attività nel mondo 4.0, nella media impresa si scende intorno al 60%, nella piccola impresa siamo intorno al 50%. Uno, il complemento vuol dire che è mercato che non ha fatto niente, ma dall'altra immagine è anche che non è che queste aziende hanno fatto tutto, hanno iniziato un percorso e quindi anche all'interno di queste aziende noi possiamo entrare in parallelo a quello che è stato fatto. Abbiamo diversi punti d'ingresso, quindi evidentemente questo è sicuramente una cosa da tenere a mente. In questi progetti si sono ottenuti dei benefici e questa è l'altra cosa da sapere perché evidentemente non si fa industria 4.0 perché ci sono gli incentivi, ma lo si fa perché ci sono dei ritorno di investimenti. E i benefici maggiori che si sono ottenuti sono l'efficienza dei processi, l'85% delle aziende che ha fatto un progetto 4.0 dichiara un miglioramento dell'efficienza nei suoi processi, il circa 75% dichiara un miglioramento dell'efficacia, l'efficacia significa miglioramento della qualità, riduzione degli scarti, quindi miglioramento complessivo dell'ultima riga del conto economico. Il terzo elemento è quello della flessibilità, che diventa altro elemento fondamentale, quindi la risposta in tempo veloce alle esigenze che cambiano del mercato, sia dalla parte della progettazione, sia dalla parte della produzione, ma anche dalla parte del servizio, quindi dell'assistenza e della manutenzione. E l'ultimo elemento, qui siamo intorno al 40%, cambiamento di modello di business. Abbiamo aiutato le aziende a cambiare il modo in cui entrano sul mercato attraverso principalmente un percorso di servitizzazione dei prodotti, quindi vendita di un servizio piuttosto che vendita di un prodotto. Questo è importante saperlo perché quando parliamo di 4.0, quando parliamo di Digital Twins, possiamo raccontare i benefici, perché è qui lì che ci ascoltano. Parlando di interlocutori, all'interno delle aziende è cambiato un po' lo scenario, perché nelle grandi aziende sono stati creati i Digital Innovation Manager, sono stati creati i Digital Officer, sono stati creati dei team che indirizzano il digitale. Quindi lì dobbiamo andare a puntare, e sono i nostri interlocutori specifici in quello da mondo. Nelle medie piccole l'IT rimane un interlocutore, direi, privilegiato, perché comunque essendo cross vede tutti i progetti che girano all'interno dell'azienda e siccome questi progetti tipicamente sfruttano tecnologie digitali, è sicuramente un punto di gresso estremamente importante. Insieme poi nella media piccola anche alla proprietà che molte volte viene coinvolta. Il mercato, quindi, è un mercato estremamente interessante, l'abbiamo detto prima, anche perché, ma poi lo vediamo con un dettaglio, esiste, è stato esteso, prorogati gli incentivi anche per quest'anno, ma su questo abbiamo una slide da seguire. Qui partiamo con alcuni suggerimenti. Il primo suggerimento quando parlate di 4.0 è 4.0 non è una tecnologia. Abbiamo detto che 4.0 e Digital Twins sono dei paradigmi. Quindi, quando approccio, ve lo dico così, non vendiamo AR, non vendiamo, che ne so, il sensore o il server, ma vendiamo delle soluzioni. Vendiamo un approccio che siamo in grado di fornire e che siamo in grado di supportare l'azienda in questo cambiamento, in questo percorso. Secondo elemento è che l'industria 4.0, che se ne dica, non è disruptive. E questo è fondamentale capirlo. Perché a volte l'interlocutore ha, come dire, un po' di incertezza dovuta alla paura di un cambiamento repentino. 4.0 è un percorso. È un percorso che deve spingere alla costruzione di competenze. E le competenze, proprio da un ultimo studio fatto da Riese, è lo skill gap. Lo skill gap è la cosa che è più importante, che è il fattore di criticità più significativo che esiste oggi nei progetti 4.0. Con le nostre competenze, e noi le abbiamo, possiamo supportare il cliente e aiutarli loro a costruire le loro competenze. Ultimo elemento è sicuramente il concetto che ho espresso prima, che è quello del ritorno dell'investimento. Il ritorno degli investimenti e i benefici sono l'elemento fondamentale. È chiaro che esistono gli incentivi, e che gli incentivi sono fondamentalmente un acceleratore del ritorno di investimento. Ma il messaggio che deve passare è inutile che fai 4.0, se non migliore, perché comunque diventa un costo. Questa cosa ci posiziona anche in un approccio di consulenza critica, che permette poi al cliente di selezionare in modo corretto le priorità di progetti al proprio interno, e quindi creare il percorso di digitalizzazione che avevamo dato. Ora, questa è importantissima, è talmente importante che con Maurizio abbiamo definito per il 7 febbraio un webinar specifico. Quindi appuntatevi la data, 7 febbraio, incentivi. Il concetto che vi passo adesso in poche parole, perché evidentemente lo spazio è quello, è cambiata la modalità, si usa un dispositivo che è quello del credito d'imposta piuttosto che quello dell'ipero superammortamento. Dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di associazione, quindi di confindustria, riteniamo che questo sia un cambiamento positivo. Perché intanto, e questo è un fattore importante da sapere per voi, apre tutta un'altra area di mercato che prima non poteva essere indirizzata, che è quella delle cooperative. Perché voi sapete che le cooperative tendenzialmente non fanno utili, e quindi l'iperammortamento diventava poco interessante. Credito d'imposta lo può usare chiunque, diventa valore aggiunto, ricavo, utilizzabile sull'RF24 di tutti i mesi. Quindi importantissimo. Il quadro è stato mantenuto, anzi è stato migliorato, l'unico bit che vi passo da subito è che sul software esiste la possibilità di fare l'investimento anche se non correlato con l'acquisto di un macchinario. Questo è un cambiamento notevole rispetto agli anni passati, quindi svincola il software dal macchinario ed è stato aumentato perché prima era mediamente un 6% di vantaggio fiscale e oggi diventa un 15% il contributo che ne può derivare. Detto questo, su questo vi rimando webinar 7 febbraio. Un minimo di informazione sul nostro piano marketing perché mi piacerebbe, siccome evidentemente ci stiamo investendo molto e abbiamo definito delle action estremamente importanti quest'anno, mi piacerebbe che chiunque di voi voglia, come dire, contribuire, partecipare, potesse farlo. I primi due appuntamenti sono 18 febbraio Milano, Forum del software industriale, l'anno scorso lo faremo al Museo della Scienza e della Tecnica, l'anno scorso abbiamo avuto 1200 persone, non sapevamo dove metterli, quest'anno ci aspettiamo un successo altrettanto significativo. E a marzo MECSPE, MECSPE è la fiera più importante del mondo della meccanica, avremo uno stand molto bello, carino, posizionato bene, abbiamo fatto esperienza l'anno scorso, quest'anno ci stiamo migliorando e vogliamo lì portare un po' tutto il messaggio. Naturalmente tutte queste action le stiamo facendo col brand Var Group, quindi questo poi avrà ricaduta non solo sulla nostra BU, ma su tutte le BU con cui collaboriamo. Elio. Via, veloci. Voi sapete che nei corsi di effective presentation vi insegnano che per tenere l'attenzione bisogna fare domande alla sala o fare riferimenti alle presentazioni precedenti. Con le luci negli occhi è difficile riuscire a fare domande alla sala e vedere se siete attenti, ma sono sicuro che siete attenti. Quindi il riferimento lo facciamo con la presentazione di questa mattina e il tema è quello della digital transformation che entra nell'industria manifatturiera. Allora, la notizia qual è? È importante capire la differenza tra la notizia e la storia. La notizia non è la transformation. La transformation è in corso da centinaia di anni, poi vi dico qualcosa di più. La notizia è che la trasformazione è digitale. Questo poi nel corso della presentazione lo capirete meglio perché è un messaggio veramente fondamentale. Per far sì che questa trasformazione avvenga servono, come diceva prima Fabio Massimo, delle tecnologie. Queste tecnologie sono inserite in un paradigma che si chiama Digital Twins. Poi vi faccio vedere un'immagine e capirete molto molto meglio. Un piccolo inciso. è importante capire cosa vuol dire Industria 4.0. Industria 4.0 è la quarta fase della rivoluzione industriale. Se voi pensate alla manifattura, manifattura viene dal latino che è manufacere, fare con le mani e risale al XIV secolo. Se voi oggi entrate in un'azienda manifatturiera vedete che chiaramente di fatto con le mani non c'è più nulla. Quindi è evidente che c'è stata una trasformazione. E questa trasformazione è appunto quella che interessa a noi, la trasformazione digitale. Di quante aziende parliamo? Parliamo di circa 60.000 aziende manifatturieri in Italia, 80.000 in Germania. Quindi un numero molto molto grande. Queste aziende però non sono tutte il nostro vero target perché quelle che interessano a noi sono quelle che abbiamo definito come engineering intensive. Cioè quelle aziende che hanno un dipartimento di ingegneria significativo e che fanno prodotti diciamo così dotati di una certa complessità. Anche di questo vedremo alcuni esempi. Quindi le legal entity che avete visto prima sono il nostro, diciamo così, elemento per il go to market. cioè sono le realtà che ci consentono di fatturare. Vediamo di andare di nuovo su questi temi con esempi molto molto chiari. Il mercato manifatturiero come viene segmentato? Quindi quelle 150.000 aziende di cui parlavo prima viene segmentato in aziende transportation quindi aziende che fanno prodotti per trasporti di massa, automotive, quindi automobili e il mondo del machinery, il mondo aerospace and defense e il mondo CPG, consumer product goods, cioè il mondo, esempio tutte le macchine che fanno il packaging, la distribuzione delle bibite. In questo mondo oggi come gruppo abbiamo circa 2000 referenze. Come gruppo, diciamo come sottogruppo digital process, perché come gruppo, vargruppo sapete che le referenze sono molto molto di più. Quindi dovete avere la tranquillità di andare a parlare con i clienti sapendo che quasi sicuramente serviamo già delle aziende che fanno dei prodotti simili a quelli dell'azienda con cui vi state confrontando. Uno degli elementi che è uscito prima è il digital twin. Digital twin è un concetto semplicissimo. Allora, twin vuol dire gemello, digital vuol dire digitale. Gemello, digitale. Perché è importante? Perché rende chiaramente l'idea di che cosa viene fatto in azienda. Oggi, prima di costruire un prodotto, lo si progetta in modo digitale utilizzando ad esempio le tecnologie CAD. Io vi ho portato due esempi se vogliamo dello stesso oggetto. In realtà non è lo stesso perché quello che vedete quindi alla vostra sinistra è il progetto della Fiat 500 di Dante Giacosa. Quindi parliamo di un'automobile degli anni 60. Il progetto era semplicemente una serie di disegni bidimensionali fatti su un foglio di carta. Quello che vedete invece alla vostra destra è, se volete, lo stesso oggetto. Poi in realtà non è lo stesso perché il nome è quello Fiat 500 ma il prodotto è completamente diverso ed è comunque un'automobile più o meno nello stesso segmento di mercato progettata con le tecnologie digitali. Questo che vantaggio dà? Dà il vantaggio ad esempio di poter fare tutte le simulazioni possibili. Se voglio fare un crash test quindi un test di solidità dell'autovettura posso con il mio modello digitale simulare lo schianto contro un muro e simulare l'impatto sugli occupanti. quindi nel mondo della digital transformation se volete il primo step è la trasformazione digitale del prodotto. Questa è complicata ma l'obiettivo non è spiegarvela tutta ma semplicemente darvi il messaggio che alla base dove c'è la piramide ampia vedete la diffusione di mercato. Quindi quando parliamo oggi di tecnologie digitali nell'azienda manifatturiera e per chi è nel settore è noto che la tecnologia CAD ce l'hanno tutti. Questa piramide rappresenta che più si sale nella diciamo così complessità delle tecnologie e più l'adozione è ancora meno diffusa quindi vuol dire c'è più spazio noi abbiamo messo questa è qualitativa abbiamo messo le tecnologie IoT nel mezzo non tutte le aziende le hanno adottate senza coprire gli step intermedi vedete che in cima c'è la in cima della piramide c'è il cloud uno degli obiettivi che abbiamo per incrementare la produttività di questa linea di business è quella di far evolvere le applicazioni che i clienti utilizzano e la gestione dei dati che generano che sono veramente tanti farli evolvere al cloud e quindi questo è uno dei percorsi che stiamo cercando di attivare è un percorso lento perché ci sono diciamo così molte resistenze in parte tecnologiche in parte di mentalità di fianco alla piramide vedete una linea che indica i clienti manifatturieri che hanno soluzioni IRP praticamente tutti tutti i clienti manifatturieri hanno soluzioni IRP non tutti i clienti manifatturieri sono nella fascia diciamo mediana della piramide quindi molti non hanno ancora la soluzione PLM quindi uno dei messaggi che si vuole dare con questa slide è che c'è una grandissima opportunità reciproca quindi c'è una grande opportunità di cross selling perché tutti i clienti manifatturieri VAR Group hanno un potenziale per essere serviti anche dalla divisione digital process e la divisione digital process ha la grande opportunità di scovare delle opportunità di business per il cliente che vuole espandere la propria soluzione IRP che la vuole cambiare che la vuole integrare per questo motivo sono stati messi due riferimenti Danilo Penati e Demetrio Nogara che sono il nostro punto di contatto per il cross selling quindi poi diciamo andate a guardare nelle presentazioni che verranno messe a disposizione e appena c'è un'opportunità di business li ingaggiate rieccomi potrebbe essere il mio gemello digitale ma poi lui sovrappeso io un po' sottopeso siamo gemelli diversi vi racconto un attimo Var Industries perché è anche con una punta di orgoglio perché nell'ultimo anno abbiamo fatto veramente tante cose i due ambiti su cui abbiamo lavorato abbiamo lavorato da un lato sull'organizzazione e dal lato sui prodotti sul lato dell'organizzazione saprete che abbiamo integrato delle componenti di offerta che erano prima distribuite in altre strutture del gruppo e abbiamo spinto molto accelerato molto nell'integrazione di risorse quindi oggi il gruppo di asset management Maximo è all'interno di varie industrie come anche il gruppo delle mobile app per il mondo industriale e per il castro development è anche questo in varie industrie quindi anche geograficamente siamo presenti anche a Torino siamo presenti qua a Firenze abbiamo una presenza piccola a Perugia e una presenza a Mantua quindi siamo cresciuti in modo estremamente significativo oggi siamo un po' più del doppio rispetto all'anno scorso stiamo anche cronando qualche marchettino diciamola così perché poi una delle criticità che ci hanno sempre dato è che io sono solo e invece servirebbe e anche in quella direzione stiamo lavorando è entrato un commerciale che è Germano Fioretto che probabilmente molti di voi lo conoscono e stiamo lavorando anche per avere dei riferimenti di zona distribuiti nelle aree geografiche quindi questo da un punto di vista organizzativo da un punto di vista dei prodotti anche lì stiamo perché non ci fermiamo mai qua non ci si può mai fermare una volta che arrivo a casa e dico ah stasera sto tranquillo non c'è stiamo lavorando tantissimo anche con altre strutture del gruppo e abbiamo anche pensato di costruire una brand identity dei nostri prodotti estremamente come dire integrante che abbiamo chiamato Internet of Factory alcuni di voi lo sapranno già ma su questo lancio il contributo video perché abbiamo ingaggiato dei grandissimi del cinema italiano per raccontarci questa cosa c'è davvero Colombo si è già trovato che Colombo scemo quasi di più Leonardo da Vinci fammi passare fammi passare Leonardo da Vinci bellissimo zitto zitto vieni qui bisogna impressionarlo fare colpo il cloud può essere pubblico privato e ibrido ma se sempre il cloud ma che sei rimasto il cloud pubblico privato o un lo sai che si dà per scontato ma è alla base di tutto internet ha perso i suoi bordi col fog computing nuovi paradigmi gestiscono le aziende buongiorno buongiorno chi siete? siamo due siamo due di var group come missione traduciamo l'innovazione che spesso rimane vincolata a concetti astratti ma noi la decliniamo in progetti concreti che rendono più efficienti i processi delle imprese che sta facendo qua? una ricerca sugli impianti di energia idroelettrica sa le pale la corrente le pale la corrente allora guarda ti si può aiutare noi di var group abbiamo la soluzione che fa per te se lei ci desse un po' di tempo sicuro insomma ne abbiamo tante beh avrei proprio bisogno di un partner per l'innovazione più di 40 anni ci si lavora ci si sa dà l'esperienza che dici leonardo? ascolta non è vero che sappiamo fa solo il gestionale e il cloud in var group siamo forti anche sull'IoT IoT bravo vedi allora guarda var group ha una soluzione specifica sull'IoT e la fabbrica 4.0 l'abbiamo chiamata internet of factory si collegano oggetti persone processi si possono realizzare progetti meravigliosi predictive maintenance e così via e poi si diventa un ecosistema var group e il cliente e la fabbrica 4.0 l'abbiamo chiamata internet of factory vi chiedo un applauso per i nostri attori che sono stati fantastici veramente fantastici il brand internet of factory che tra l'altro è un brand registrato quindi protetto raggruppa un po' tutta la proposta che sta in varie industries quindi raggruppa il mondo dell'IoT con le piattaforme IoT e l'edge computing ecco un focus sull'edge oggi l'edge diventa fondamentale quindi il fatto di disaccoppiare con l'edge portando in campo permette poi di portare in cloud tante applicazioni a breve rilasceremo il primo mess in cloud di nostra realizzazione integrato su piattaforme cloud pubbliche quindi evidentemente anche lì abbiamo un percorso verso la servitizzazione quindi una proposta a canone delle nostre soluzioni mess analytics mondo delle applicazioni verticali quindi tutto quello che gira nella fabbrica quindi mess tracciabilità schedulazione la schedulazione è un elemento che ci mancava oggi lo abbiamo la parte asset management energia qualità abbiamo una componente molto ampia e poi tutta la parte di user experience user interfaces sotto questo naturalmente il mondo cross quindi AI blockchain e lo sviluppo custom su questo evidentemente sempre cross tutto l'approccio cyber ci sono questi sono i prodotti già disponibili è un catalogo estremamente ampio ma è ampio anche perché integriamo le competenze che sono distribuite nelle strutture che abbiamo integrato in questo anno all'interno di hardware group per cui abbiamo una componente massimo che copre la parte maintenance abbiamo una componente di scheduling che è realizzata da APRA abbiamo una componente di quality che è realizzata da Qualiware quindi e poi le nostre componenti tradizionali quindi il mess all'IOF monitor focalizzato sulla piccola media in particolare sul mondo meccanico ma va bene anche in altre situazioni lo stiamo adottando in panifici con i colleghi di Business One e il PMS che invece è più focalizzato per le industrie di processo e di quelle che noi chiamiamo consumer package goods per cui hanno una parte di processo e poi una parte di confezionamento Collect la mobile app configurabile che permette di costruire poi tutto il mondo dell'acquisizione e della gestione dei dati mobili con cui stiamo facendo delle cose carine anche ad esempio una pubblica amministrazione sulla lettura dei contatori in Publiacqua abbiamo fatto una cosa molto carina che poi verrà estesa con dei refeed quindi prodotti che ci permettono di essere efficienti veloci ed efficaci per il mondo enterprise che non tralasciamo abbiamo anche delle collaborazioni internazionali con chi produce MES e quindi in quel caso lavoriamo più da system integrator per avere anche un'offerta che sia compatibile con un mondo delle aziende multinazionali quello che ci differenzia rispetto al resto del mondo è questo approccio noi l'abbiamo chiamato la process in data driven industrial digital digital transformation perché come dicevo prima quando andiamo dal cliente la prima cosa vogliamo capire quali sono i suoi obiettivi analizzando gli obiettivi lavorando sui processi e capendo quali sono le situazioni siamo in grado di definire con lui una roadmap un piano di priorità un modo di interagire che è estremamente voluto un po' quello che raccontava anche Davide nel settore del networking comunque della connettività questo è fondamentale perché uno ti posiziona in modo diverso non vai subito a parlare di licenze ma vai a parlare di processi obiettivi benefici e due instaura un rapporto di lungo periodo e questo è l'elemento che più ci piace ci contrastistingue due numeri l'anno scorso i brand che c'erano qua dentro erano molti meno in realtà qua non ci sono tutti però vi posso dire che quest'anno abbiamo fatto 26 progetti mess nuovi su nuovi clienti nuovi nomi secondo me è impressive come numero e di questi direi che 24 sono integrati con i RP fatti da aziende della nostra struttura quindi ancora di più sinergia integrazione possibilità di business congiunto ci sono dei champions che poi adesso subito dopo vedremo premiazioni invito sul palco anche un grande valore aggiunto che si è aggregato alla nostra struttura di recente abbiamo visto ieri negli aneddoti nei filmati Martina Becevello per il mondo è la Bece questo è bene siamo pronti per le premiazioni chiamo Fabrizio Pilotto Alessandro Marconcini Marco Biolghini e Demetrio Nogara Mentre salgono io ringrazio Marchetti perché per la prima volta sono riuscito a capire Troisi quando parla cosa dice è che non è un'altra per la prima volta ma ah ok perfetto due parole veloci Fabrizio progetto Romar progetto bellissimo fabbrica che parte dal prato mess 4.0 a tutto tondo abita di fronte a casa sua per cui ci ha messo la faccia non so se nel futuro potrà uscire di casa ma noi glielo permetteremo tra l'altro progetto innovativo perché è un progetto in cui controlliamo tutta la linea di produzione dalle materie prime fino al prodotto finito con una riconfigurazione automatica della linea in funzione del prodotto che deve essere fatto e anche un concetto di ecosostenibilità perché evidentemente riducendo gli scarti controllando la materia prima e i consumi di energia che vengono utilizzati l'ecosostenibilità diventa elemento centrale un ringraziamento però anche al tuo team che ha lavorato in maniera puntuale dopo lo facciamo complessivamente poi Alessandro Marconcini rappresentanza del sales team di Empoli volevo premiare un team geografico perché col team di Empoli c'è stata un'empatia estremamente significativa non che con gli altri non ci sia stata ma lì abbiamo prodotto di più quindi non è un contest ma l'idea di lanciare un contest potrebbe essere interessante e magari con Maurizio prossimamente ci lavoreremo Marco Biolghini in realtà abbiamo al posto di Marco che ce l'hanno rapito c'è Sebastiano Castrini Sebastiano Castrini lui è il capo dell'azienda io del prodotto perché con Pantera abbiamo fatto il record e abbiamo fatto nove sistemi MES rilasciati in un anno devo dire che Pantera è il canale di Pantera perché anche il canale di Pantera ha avuto un contributo estremamente significativo sì il merito è della nostra forza commerciale Marco non c'è i commerciali non possono ritirare la bottiglia chi se la piglia se la tiene ciao poi Demetrio Nogara non so se Demetrio Nogara viene premiato per dico io qualcosa perché lui non lo sa per aver contribuito a creare assieme ai colleghi delle vendite delle altre aziende Vargroup una pipeline superiore al milione di euro quindi per questo motivo riceve questo premio poi nella verità lo potrà bere solo nel momento in cui la pipeline diventano almeno dillo tu quanti K di euro sì ma quanti numero concreto non facciamo le cose facciamo almeno mezzo milione dai bravo siamo ottimisti io chiedevo 300 mila va bene mezzo milione la può bere ecco grazie Elio grazie Fabio grazie a te in sintesi per finire per chiudere un po' il nostro spazio tra l'altro raga 12.32 qua potremmo premio dov'è Sara quest'anno secondo me merito anche un premio perché mai nella mia vita sono stato così puntuale naturalmente ringraziamento al nostro team perché abbiamo avuto a tutto il nostro team allargato perché abbiamo avuto un anno estremamente complicato estremamente importante da un punto di vista del cambiamento tutti si sono impegnati stiamo cercando di costruire una squadra lavorare insieme perché evidentemente questo è estremamente importante e lavorare insieme anche con le altre BU perché come abbiamo visto per noi soprattutto di varie industries il lavorare con le altre BU ha generato più o meno l'80-90% del nostro fatturato e quindi questo è estremamente importante un ringraziamento a tutti e naturalmente un arrivederci al prossimo anno dove annunceremo dei risultati ancora migliori giusto? Savasandio buon appetito grazie bene grazie a tutti grazie a tutti